È visitabile fino al prossimo martedì 16 agosto nell'atrio del comune di Montagano Lampi Sottovoce, la mostra pittorica realizzata da Martina Di Tommaso. Una vera e propria esplosione di colori zottati su tela in chiave moderna, per lo più astratta, in cui si nasconde e viene allo stesso tempo espresso il mondo di Martina, che come più grandi talentuose ha iniziato a dedicarsi al disegno da bambina, da appena dieci anni, con le prime rappresentazioni guidate e seguite dal maestro Emilio Di Tommaso. Perché alcuni doni e passioni si ereditano geneticamente, Martina, figlia d'arte, deve tanto a quello che è stato un idolo per molti appassionati, non solo Lampi Sottovoce, ma anche Percezioni. Questo è infatti il titolo della prima mostra realizzata dalla Di Tommaso. Il nome Lampi Sottovoce è stato scelto da Sergio Marchetta perché a sua detta rispecchierebbe l'animo di Martina, pregno di entusiasmo ma anche di modestia. Nelle sue opere l'artista si esprime anche attraverso i volti, nello specifico con giochi di sguardi. Martina, che si augura di crescere sempre di più in campo artistico, mostra di essere legata molto anche alla sua terra, con dipinti che caratterizzano le architetture del suo paese. Martina, che si augura di crescere sempre di più in campo artistico, mostra di essere legata molto anche alla sua terra, con dipinti che caratterizzano le architetture del suo paese. Martina, che se augura di crescere sempre di più.